Lentini, fatale impatto sulla strada statale 114 tra Siracusa e Catania, auto travolge ciclisti, morto un insegnante 57enne. Un'auto ha travolto due ciclisti che stavano percorrendo la strada statale 114 tra Siracusa e Catania all'altezza del ristorante Torero in territorio di Catania. Nell'impatto avvenuto nel pomeriggio di ieri è morto uno dei due ciclisti, un 57enne insegnante di matematica a Lentini, mentre l'altro è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale Cannizzale di Catania. Sulla dinamica sono state avviate le indagini da parte delle forze dell'ordine che hanno compiuto il rilievo sul tratto dove è avvenuto l'incidente stradale. La vittima è un ciclista lentinese Alfredo Floridi, ha 57 anni, ingegnere e docente di matematica all'istituto Vittorini, Gorgia di Lentini. La dinamica non è ancora stata ricostruita dagli agenti della Polizia Municipale di Catania. Il professore Alfredo Floridi era sposato e padre di tre figlie. Era conosciuto nel mondo della scuola come un insegnante modello, sempre disponibile con tutti i colleghi. Un uomo gioviale, buono, mite e allegro che alternava l'insegnamento alla professione di ingegnere, ma anche la passione per la bici.